Sono stati denunciati per truffa tre uomini e una donna scoperti dagli agenti del commissariato di Fano grazie a delle denunce sporte da chi aveva subito raggiri. Le indagini dei poliziotti coordinati dal dirigente Stefano Seretti hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei truffatori di età compresa tra i 20 e i 40 anni e residenti in Emilia, Abruzzo e Campania. Le vittime in questo caso sono i venditori, tutti i fanesi che dopo aver inserito online i prodotti di varia natura venivano contattati telefonicamente dai presunti acquirenti. I malfattori, sostenendo anche di essere diversamente abili, riuscivano a convincere i venditori a recarsi negli sportelli Bancomat per le operazioni di denaro pattuite. Ma qui i fanesi dai 40 ai 60 anni di età venivano guidati, sempre al telefono, su cosa digitare nella tastiera dello sportello, nella falsa convinzione di operare per l'accredito, mentre in realtà venivano condotti ad effettuare un addebito. In alcuni casi, anche più volte, fino a raggiungere importi che variavano dai 400 a oltre 3.000 euro. Solo dopo, quando ormai era troppo tardi, le vittime avevano realizzato quanto accaduto, rivolgendosi così al commissariato di Fano. Ora proseguono gli accertamenti della polizia che sta indagando su altre denunce e segnalazioni.